Norvigo non stabile l'ingaggio E andrà Nathan a liberare Troy Nathan a calciare e a liberare un po' la pressione alla difesa della Lazio Certo che può, calcio libero può Buono il calcio di Troy Nathan che guadagna metri ma adesso c'è Gawini che va da solo Gawini va da solo Gawini! Non lo prendono più Non lo premano più Però non ha ancora fischiato l'arbitro fischia adesso la meta di Gawini Un'azione personale eccezionale da parte dell'ala di Rovigo Difesa della Lazio che ha fatto finta di salire E soprattutto solo in difficoltà Quel pallone Nathan lo deve mettere in mezzo alle poste rosso-blu Eccola qui, la rivediamo Eccolo qua E guarda la finta adesso Balson cambia l'angolo per dare il sostegno Opla! E via Sulla bandierina Gawini per andare a mettere dentro Quarta meta di Gawini Grazie a tutti! Grazie.